Musica Marciana, alberi caduti sulla provinciale per il forte vento, interventi dei vigili del fuoco, oggi traghetti regolari, saltate le due corse mattutine. Perdita da un tubo la causa dell'incendio sul Bellini, la verifica dei vigili del fuoco con termocamera nel locale interessato, l'amministratore delegato di Torre Marsavelli, impeccabile, il personale di bordo. Partito Democratico per la promozione dell'Elba serve un progetto comprensoriale, i democratici commentano l'aumento del contributo di sbarco e la gestione della GATT, Elba 2.0 dal futuro pulito, prima di tutto l'ambiente, così dicono gli attivisti erbani del Movimento 5 Stelle che chiedono dibattito e corretta informazione per i cittadini e presto annunciano la pubblicazione di un dossier. Buonasera, benvenuti a Prima Pagina, parliamo di prevenzione sui luoghi del lavoro. Nel fine settimana scorso una delle aziende leader del settore sull'isola d'Elba, l'AIP Iniziative di Prevenzione di Michele Mazzari, chi ha sede a Procchio, ha organizzato un open day in un locale di Portoferraio per far conoscere ai visitatori e agli invitati quali sono le nuove normative alle quali le aziende devono adempiere per essere in regola e anche per far conoscere gli strumenti di sicurezza sul lavoro. Abbiamo sentito Michele Mazzari e il suo staff. Questa è la prima pagina. Per l'occasione è stato allestito anche un aperitivo e un buffet di benvenuto a tutti gli ospiti che hanno preso parte all'evento. Ne parliamo con il titolare, Michele Mazzari. Oggi sostanzialmente è un giorno autocelebrativo. Vogliamo far conoscere meglio i nostri servizi ma anche dare qualcosa al territorio che tanto ci dà. Quindi abbiamo preparato un buffet, abbiamo preparato una serie di gadget e così in un paio d'ore riusciremo a conoscere nuovi amici e fare anche ulteriori amicizie con i nostri clienti che da anni ci seguono. Vediamo delle attrezzature importanti per quelle che sono la prevenzione e per quella che è la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci può raccontare qualcosa di queste attrezzature? Sì, qua abbiamo rappresentato una parte delle nostre attrezzature che sono necessarie per poter adempiere in maniera completa gli obblighi sia del campo della prevenzione di infortuni ma anche di altri campi, ad esempio il campo dell'acustica ambientale. Qua abbiamo portato oggi a far vedere ai nostri amici, ai nostri conoscenti, a chi ci verrà a trovare, a chi ci sta venendo. Fonometri ambientali, attrezzatore per il calcolo dei requisiti passivi all'interno degli edifici, chiaramente attrezzatura per la verifica dei impianti elettrici, tutto ciò che serve per l'analisi chimico-ambientale e altre attrezzature ancora più specifiche tipo ad esempio i misuratori del radon all'interno degli edifici. Iniziative di prevenzione da oltre 30 anni si occupa di sensibilizzare l'isola d'Elba su quelli che sono i necessari adempimenti per la sicurezza sul lavoro. Noi certamente facciamo nostra parte insieme anche ai nostri competitors, ovviamente. Diciamo che le normative di questi ultimi anni si sono molto ulteriormente rese complesse e quindi le sfaccettature sono ancora più articolate e questo necessita di un ulteriore adempimento, una serie di adempimenti direi, che sono sempre più tecnici. Oramai io dico anche ai miei clienti, sono nato tecnico ma sto diventando avvocato, perché ovviamente la nostra attività spesso e volentieri esce dal perimetro tecnico e sfonda il perimetro giuridico. Mazzari, senta, com'è la risposta del territorio? Allora, il territorio è molto ma molto più sensibile oggi di quando, ahimè, 32 anni fa io ho iniziato e devo dire che l'evoluzione è stata straordinaria, per certi versi devastante anche. Noi proprio per questo motivo, per tenere il passo con le necessità e le richieste che ci provengono dal territorio, noi siamo in una continua ricerca evolutiva e quindi cerchiamo di già, come dire, proiettarci nel futuro perché già abbiamo modo di pensare quelle che saranno le richieste dei nostri clienti nei prossimi tempi. Per iniziative di prevenzione Rachele Puccini ad occuparsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per l'azienda è importante sia la parte formativa che documentale sulla sicurezza. Come rispondono le aziende e le persone che lei va a formare? Le persone sono molto sensibili su questa tematica anche perché sanno che è un adempimento, è un obbligo di legge e quindi noi riusciamo benissimo con la nostra consulenza anche a fare capire l'importanza della formazione come adempimento appunto per l'azienda e quindi rispondono bene. Grazie a tutti! Buonasera cari e gentili telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con il telegiornale. Archiviata la prima pagina parliamo di Crona che è stata una notte molto ventosa, quella appena trascorsa che per fortuna non ha recato troppi e molti danni sul territorio, soltanto qualche albero caduto sulla strada della Civillina nella zona di Marciane e sulla strada del Monte Perone. Oggi le navi hanno passato il canale regolarmente, sono saltate due corse soltanto nella mattinata. Il servizio. Le forti raffiche di ponente annunciate dall'allerta meteo arancione della protezione civile regionale che dalla serata di lunedì hanno battuto l'elba fino a mattinata inoltrata hanno creato disagi soprattutto nel versante occidentale dell'isola. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel comune di Marciana per chiamate che segnalavano alberi caduti sulla provinciale per il Monte Perone e via della Civillina. Da segnalare anche un blackout generale durato alcuni minuti, sempre a Marciana nella frazione di Poggio. Per quanto riguarda i collegamenti marittimi, stamani la nave Rio Marina Bella della Toremar non ha effettuato la corsa delle 6.30 da Portoferraio e delle 8 da Piombino. Anche la di Scafo è rimasto fermo a banchina. Per il resto della giornata le corse dei traghetti sono state effettuate regolarmente. Bene, torniamo a parlare del principio di incendio che ha causato l'avaria al traghetto Bellini della compagnia Toremar nella giornata di ieri della quale vi abbiamo dato ampiamente cronaca nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale. Per chi è, i vigili del fuoco sono riusciti con una termocamera ad entrare nel locale dei motori dove si era sviluppato il principio di incendio e probabilmente la causa è dovuta ad un tubo che perdeva del gasolio che poi a contatto con il caldo del motore ha cominciato a prendere fuoco. L'amministratore delegato di Toremar Matteo Savelli ha dichiarato impeccabile il comportamento del personale di bordo. È dovuto presumibilmente ad un'accidentale perdita di gasolio da una tubazione l'incendio, pur di limitate dimensioni, che si è sviluppato nel motore del traghetto Bellini la mattina di lunedì 6 marzo. Lo comunicano i vigili del fuoco che sono intervenuti sulla motonave ed hanno verificato la situazione. L'incendio, prontamente spento dall'intervento dell'equipaggio e dell'impianto di CO2 di bordo, come detto potrebbe essersi sviluppato per una perdita di gasolio da una tubazione, innescato per contatto con le parti calde del motore. Il personale dei vigili del fuoco, intervenuto con due squadre e tre mezzi e coordinato da un funzionario, ha provveduto a monitorare con la termocamera le temperature dei locali interessati e ad accedere con le dotazioni di protezione individuale al locale macchine, appurando che l'incendio era estinto. Si conferma che non ci sono stati problemi per l'equipaggio e i passeggeri. Mi preme sottolineare come ancora una volta il personale di bordo si sia comportato in maniera impeccabile, grazie alla prontezza del comandante Pasquale Galano e del direttore di macchina della nave, che con tutto l'equipaggio hanno gestito l'evento con grandissima professionalità, dichiara l'amministratore delegato di Torre, Marmatteo Savelli. Le loro azioni hanno garantito in pochi secondi lo spegnimento dell'incendio e il successivo posizionamento della nave con le ancore in prossimità dell'isola di Palmaiola, in attesa dell'arrivo dei rimorchiatori. Questo, a conferma della grande professionalità di tutti i nostri marittimi, termina che come primo obiettivo hanno sempre a cuore la sicurezza dei passeggeri a bordo. Bene, cambiamo argomento, parliamo dei ragazzi del canile e dell'associazione animalista Animal Project che insieme si sono recati nelle zone terremotate di Norcia ed Amatrice per portare aiuti agli animali delle popolazioni che sono state colpite dal terremoto. Presto organizzeremo altri banchetti per raccogliere altro materiale e portare ancora altri aiuti, dicono. I volontari di Animal Project, i ragazzi del canile, la scorsa settimana si sono recati a Norcia ed Amatrice per portare aiuti alle popolazioni terremotate e ai loro animali. Lì non rimane più niente, fanno presente, se non desolazione, tristezza e sconforto. Per noi è stata una esperienza unica che porteremo sempre nel nostro cuore. Abbiamo conosciuto persone meravigliose che ci hanno dato una lezione di vita con mossi per un pacco di pasta, una passata di pomodoro e una bottiglia d'olio o una scatoletta per il cane. Vivono tutti in roulotte, in tenda, con mense e bagni comuni. È una terra di allevatori, hanno tutti animali, soprattutto cani, per guardia e per spostare le mandrie. Dopo il sisma continuano i volontari. Questi animali sono vivi grazie solo alla solidarietà di tutta Italia e ai volontari che distribuiscono cibo a tutti, perché in quei posti non ci sono più supermercati, anche se volessero non possono acquistare cibo per cani e gatti. I volontari animalisti del posto, che si occupano di tutto, persone e animali, percorrono sempre chilometri e chilometri tutti i giorni per raggiungere tutte le zone e distribuire cibo e altri beni. Questo per noi, aggiungono, è solo il primo viaggio, ce lo siamo promesso. Queste persone non hanno bisogno tanto di beni materiali, quanto di conforto, assistenza. Hanno bisogno di sentire la solidarietà di tutta Italia e ciò che li rende ancora vivi è proprio questo, la vicinanza di tutti. Per questo torneremo e cerchiamo stavolta televisori, che non si usano più da portare nei centri comuni, giochi per bambini, materiale scolastico e altri beni di necessità, come caffè, oggetti per igiene personale, organizzeremo quindi dei punti di raccolta. Nel frattempo abbiamo aiutato i volontari a gestire delle situazioni di emergenza per alcuni cagnolini. Se qualcuno fosse interessato alla loro adozione, può chiamarci al numero 329-22-79-296 o 328-54-75-059. Il Partito Democratico commenta la gestione della GATT, della gestione associata per il turismo, commentando anche l'aumento di sbarco, e aggiunge perché questo organismo funzioni. Serve un progetto comprensoriale. Il contributo di sbarco dopo le modifiche dello scorso anno si configura come tassa di scopo e per questo, secondo il Partito Democratico ilbano, una significativa parte degli introiti dovrebbe essere destinata alle questioni ambientali, alla green economy, per esempio, e al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Vista l'importanza della posta in gioco, dicono dal PD, appare riduttivo lasciare libertà al singolo comune di spendere la sua quota parte in modo arbitrario, senza una progettualità comprensoriale. Ricordano che fino ad oggi le amministrazioni si sono limitate ad utilizzare i proventi del contributo di sbarco solo per rimpinguare il calendario degli eventi estivi e i microprogetti che non hanno lasciato traccia sul territorio del loro passaggio. Tant'è vero, rincarano, che è generalizzata nella popolazione elbana una sensazione di malessere nei confronti della gestione associata per la promozione turistica e non si percepisce la sua reale utilità come volano di sviluppo turistico. Secondo i democratici, è mancato l'ascolto verso i cittadini, promesso a più riprese, ed è mancato anche il coinvolgimento di esperti e professionisti locali che, spiegano, potessero in qualche modo indirizzare il lavoro di manager a contratto che ben poco sanno dell'Elba e che ben poco la vivono. In sintesi, secondo il PD, è mancato un progetto condiviso di lungo respiro, fatto di rapporti con il tessuto sociale ed economico dell'isola sulla sua unica prospettiva di sviluppo rilancio, quella turistica. Si è balbettato per anni di Elba Lifestyle, aggiungono, ma nessuno ha ancora capito che cosa significhi e come si traduca questo, che ogni anno costa centinaia di migliaia di euro, in posti di lavoro, aumento della stagione turistica, aumento del target turistico di riferimento. In sintesi, concordano che l'aumento potrebbe essere accettabile, visti anche i costi delle singole località turistiche che applicano la tassa di soggiorno, ma è essenziale, fanno presente, che questo sia legato ad un progetto comprensoriale che riguardi tutta l'isola e che possa ambire, nei prossimi dieci anni, a farle fare un significativo passo in avanti e che gli elbani siano informati su come la loro isola decide di promuovere se stessa. Coinvolgere tutti in un'idea di sviluppo è la migliore pubblicità che si possa fare all'Elba. Dopo la visita del vicepresidente della Camera di Maio all'Isola d'Elba, ormai avvenuta circa due settimane fa, gli attivisti del Movimento 5 Stelle elbano chiedono chiarezza, chiedono confronti, annunciano dossier sulla situazione dell'Isola d'Elba e dicono che l'isola deve affrontare un percorso di Elba 2.0, cioè obiettivo l'ambiente. A circa due settimane dall'incontro pubblico a Portoferraio di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, gli esponenti locali del Movimento fanno alcune riflessioni, sia come attivisti che come cittadini. La presenza di Di Maio, commentano, ha acceso nuovi ossupiti entusiasmi, anche in chi si era momentaneamente assentato dalla scena pubblica. A questo punto, però, siamo i primi a porci degli interrogativi, al di là della propaganda legata alle vicende nazionali. Quale soluzione ha proposto Di Maio per l'Isola? Quali atti stanno portando avanti gli attivisti che hanno organizzato l'evento? Per conto di chi? Dalla visita sono emersi alcuni temi come sanità, tribunale, continuità territoriale, accenni al costo dei trasporti marittimi e al monopolio Tore Marmobi. Un incontro con il primo cittadino di Portoferraio, parte della sua giunta, per risolvere la questione waterfront. Tutto molto interessante, dicono i pentastellati locali, se non fosse che non abbiamo ancora capito quale sia la posizione assunta dai referenti ed organizzatori locali. Sì, no, forse. Come, quando e perché? Quale iniziative per migliorare la qualità della vita e i servizi della nostra comunità, che poi di riflesso si traducono in un miglioramento complessivo dell'offerta turistica? Lo staff comunicazione del Movimento 5 Stelle Portoferraio Elba intende sottolineare con forza la centralità del tema ambientale e del benessere, quali cardini dell'intero sistema locale, quale unica via per lo sviluppo turistico e per la piena occupazione. Siamo sicuri, dicono, che le idee migliori e la creatività trovano sempre terreno fertile su cui crescere. Non ci spaventa il confronto, purché si attui un serio dibattito e sia fornita una corretta informazione ai cittadini. Nelle prossime settimane verranno resi pubblici i dossier di analisi della situazione elbana su vari temi. Il nostro intento è quello di informare, perché è un cittadino consapevole, è un cittadino libero. Ben ritrovati. Dunque, perché non si farà l'evento Femmine in Festival, domani è l'8 marzo, la festa della donna, a raccontarcelo è Luisa Brandi, che è stata la presidenza del Consiglio Comunale di Portoferraio, e racconta anche perché è naufragata la sua esperienza amministrativa con l'attuale maggioranza. Dopo aver annunciato le iniziative previste a Portoferraio, in occasione della festa della donna, l'ex presidente del Consiglio Comunale portoferraiese, Luisa Brandi, interviene per spiegare come mai non si svolgerà l'evento Femmine in Festival. È trascorso quasi un anno dalle mie dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Cebrandi e circa due settimane dalla rinuncia a tutte le deleghe conferitemi dal sindaco per l'organizzazione di mostre fotografiche della festa della donna per l'8 marzo. Nel premettere che la rinuncia alle deleghe è intervenuta per mancanza evidente di interesse da parte dell'amministrazione alle mie iniziative e di conseguenza di qualsiasi voglia stanziamento di spesa per promuovere la cultura locale, non posso che rilevare come la mia esperienza politica con l'attuale maggioranza sia oramai naufragata per acclarata assenza di affinità elettive. Con la nota inviata alla stampa Luisa Brandi spiega come mai quest'anno Femmine in Festival non si terrà. L'evento continua, da me creato e concepito in una pluralità di incontri nell'ambito di un unico appuntamento non ha avuto possibilità di seguito per l'impossibilità di adempiervi, ovvero di programmare ed organizzare tempestivamente questa festa che, a mio avviso, avrebbe dovuto procedere secondo un naturale crescendo con stanziamenti richiesti ma mai pervenuti finalizzati a promuovere l'arte e l'artigianato locale. Ma del resto, con la mia scelta, penso di aver fatto cosa gradita a questa amministrazione atteso che anche dinanzi a detta rinuncio ha fatto seguito il medesimo silenzio. Rimane comunque il fatto, e non la polemica, che non essendoci in giro idee nuove, il mio concept, è comunque piaciuto così tanto all'amministrazione da riproporre quest'anno un evento dislocato su varie sedi e spalmato in più giorni, così come io l'ho concepito e realizzato. E questo, onestamente, non può che farmi piacere, sia come persona, che come cittadina, così come mi fa piacere, apprendere che poco dopo la mia rinuncia sono emerse interessanti risorse per la festa della donna di quest'anno. L'azienda sanitaria locale, l'azienda costa toscana, la ASL6, fa sapere che stanno aumentando in modo non preoccupante, ma comunque in modo rilevante, i casi di morbillo. Il morbillo è una malattia contagiosa per cui si raccomanda comunque il vaccino. Anche nel territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest e in particolare in Versilia, si è registrato un aumento di casi di morbillo. La malattia è contagiosa e a trasmissione aerea, ma nel caso di comparsa di sintomatologia compatibile con morbillo è raccomandabile una valutazione medica e poi l'isolamento domiciliare per alcuni giorni. È quindi il medico di medicina generale o pediatra a dover vagliare la situazione e a decidere la soluzione migliore per il proprio assistito. Se non ci sono sintomi particolarmente gravi, non è infatti consigliabile l'accesso in ospedale che invece rischia di far aumentare la diffusione dell'infezione. Ai contatti di ogni persona affetta da morbillo viene comunque offerta la vaccinazione dal Dipartimento della Prevenzione. La maggiore circolazione del virus e del morbillo è probabilmente legata ad una riduzione nell'ultimo periodo della percentuale di bambini vaccinati che è scesa a circa l'88%, mentre per una immunità di gregge è raccomandata una percentuale almeno del 95%. I vaccini utilizzati negli ultimi anni per i bambini sono combinati contro morbillo, rosolia e parotite e tale vaccinazione è inclusa nel calendario nazionale delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate anche per gli adulti che non hanno avuto la malattia, soggetti a complicazioni molto serie e anche se rare, il consiglio è quello di vaccinarsi. Ben ritrovati dunque, parliamo di agricoltura, c'è tempo fino al 31 marzo per fare domanda per presentare nuovi impianti viticoli così come è previsto dalla normativa che è stata aggiornata. C'è tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda di autorizzazione per nuovi impianti viticoli così come è previsto dalle normative nazionali aggiornate. In particolare, l'ultimo decreto ministeriale ha modificato i criteri di attribuzione delle autorizzazioni. prevedendo nuovi criteri di priorità. La giunta regionale ha così recepito i nuovi criteri e stabilito con una delibera del 14 febbraio di attribuire priorità alle aziende piccole e medie e a quelle biologiche. Il 50% delle autorizzazioni saranno così riservate alle aziende viticole piccole e medie con una superficie complessiva compresa tra 0,5 e 30 ettari ed aziende che negli ultimi cinque anni hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata aziendale. Le aziende con priorità che riceveranno solo una parte degli ettari richiesti parteciperanno per la superficie rimanente alla distribuzione dell'altro 50% della superficie disponibile con il sistema pro-rata per tutti i richiedenti. Inoltre, nel caso in cui le richieste dovessero superare di tre volte la superficie messa a disposizione della regione toscana circa 600 ettari la regione entro dieci giorni dal termine per la presentazione delle domande potrà applicare un limite massimo agli ettari richiedibili per ciascuna domanda. Tra le novità introdotte oltre all'attribuzione garantita a tutti i richiedenti di una superficie minima di 1000 m2 di vigneto anche due vincoli la localizzazione regionale delle nuove autorizzazioni e il mantenimento del vigneto per almeno cinque anni. Le domande di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti possono essere presentati al Ministero delle Politiche Agricole fino al 31 marzo in modalità telematica nell'ambito del Sian. Ed è tutto cari telespettatori grazie per essere stati con noi vi lasciamo agli altri programmi della rete e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. grazie a tutti i nostri spettatori